Signori e signori, buonasera, benvenuti a bordo di questa astronave che oggi, partendo dalle orbite silenziose, indisturbate, matematiche, imperturbabili ai confini del Sistema Solare, ci porterà qui, in questo teatro, in un viaggio attraverso il cosmo alla ricerca del suo contrario speculare, il caos. E in questo viaggio incontreremo molti oggetti costruiti dall'uomo, una volta la punta di diamante dell'ingegneria aerospaziale, oggi ridotti a degli ammassi di detriti, dei relitti che galleggiano in questo oceano gravitazionale. E come in ogni oceano che si rispetti, cominciamo subito a trovare un messaggio dentro una bottiglia, una bottiglia che adesso apparirà alle mie spalle, dove sono disegnati un uomo, una donna, le istruzioni per ascoltare questo particolare disco e anche l'indirizzo del mittente. Contiene delle immagini della Terra, dei messaggi di pace. Sono stati scelti oltre 50 anni fa da un grande scienziato, Carl Sagan, come biglietto da visita della nostra umanità nel caso queste speciali bottiglie andassero ad arenarsi sulle spiagge di qualche pianeta e qualche civiltà extraterrestre, fosse curiosa di conoscerci. Di queste bottiglie ce ne sono quattro e si trovano a bordo di quattro astronavi, sono il Pioneer 10, il Pioneer 11, il Voyager 1 e 2. Sono gli oggetti che si trovano oggi costruiti dall'uomo più lontani dal pianeta Terra. Siamo oggi qui a 17 miliardi di chilometri da questo teatro. Ma mettiamoci subito in viaggio per andare un po' più verso la nostra stella. E immediatamente partiamo, eccola la nostra stella, e ci portiamo a 600 milioni di chilometri da qui. Arriviamo nella regione dei cosiddetti giganti gassosi, Giove e Saturno. E qui incontriamo solamente due oggetti, anzi, da qualche settimana solamente uno ne è rimasto. È questo che avete appena visto passare alle mie spalle, si tratta della sonda Juno della NASA. L'altra Cassini, dopo dieci anni di onorato servizio, ha deciso di sprofondare attraverso le nuvole di Saturno e ha lasciato dietro di sé soltanto un piccolo robot abbandonato sulle spiagge di metano di una delle sue lune. Andiamo avanti, non ci sono grossi pericoli qua. E ci portiamo, questo è il pianeta rosso, Marte, il pianeta più osservato dopo la Terra. Qui incontriamo moltissimi oggetti costruiti dall'uomo e inviati a esplorare questo pianeta. E questi moltissimi oggetti, dopo tanti anni, cominciano a perdere un po' di pezzettini, un po' di detriti, debris, è il termine tecnico in inglese. Ecco, per adesso non ce ne preoccupiamo troppo, ma nell'arco degli anni causeranno sicuramente dei problemi alle missioni che seguiranno. Dunque bisogna prestare attenzione. Continuiamo rapidamente questo viaggio e ci portiamo adesso a un milione e mezzo circa di chilometri da Terra. Sono dei punti un po' speciali, si chiamano i punti lagrangiani, ce ne sono cinque, sono dei punti dove vige un perfetto equilibrio tra la gravità della Terra, la Luna e il Sole. Un oggetto posto in questi punti, come vedete qui, può osservare tranquillamente il Sole, ad esempio, è il caso di questo telescopio, si chiama Herschel, restando indisturbato e immobile e alla fine della sua vita operativa basta una spintarella accendendo i motori e lui se ne va indisturbato a parcheggiare intorno al Sole, lasciando libera la postazione per i satelliti che verranno dopo. Dunque ancora nessun problema. Continuiamo e questa volta invece andiamo ad incontrare le prime orbite terrestri di questo lungo viaggio, sono le orbite altamente ellittiche, sono delle orbite molto speciali che hanno degli apogee lontanissimi dalla Terra, ma i satelliti che le popolano, sono lì per fornire dei servizi alle zone più impervie del nostro pianeta, i ghiacci, i poli in particolare. Servono le tundre, la Siberia, il Canada, i ghiacciai, l'Antartide e nel fare questo sfrecciano poi quasi a sfiorare la superficie della Terra in termini ovviamente sempre relativi, parliamo di qualche centinaio di chilometri. e dunque se ci mettiamo a cavalcioni di uno di questi satelliti ci portiamo adesso in una delle regioni più densamente popolate del nostro sistema solare, si chiama l'orbita geostazionaria ed è posta a 36.000 km da questo teatro sull'equatore. Si tratta di una regione che deve il suo nome al fatto di una particolare proprietà. Un satellite posto in questa regione impiega esattamente un giorno, un giorno siderale cosiddetto, per fare una rotazione intorno alla Terra e dunque agli occhi di un osservatore sulla Terra questo oggetto appaierà immobile. Capite immediatamente che è una situazione molto peculiare e di interesse per chiunque per esempio voglia disporre un ripetitore, un ripetitore per emissioni televisive o telefoniche o radiofoniche, oppure che voglia disporre un satellite per l'osservazione meteorologica per vedere i fronti delle nuvole, come avanzano. E dunque questo fa sì che i 500 e più satelliti operativi che sono disposti in questa particolare regione in realtà non siano equipamente distribuiti ma si trovino là dove c'è più business, dunque per esempio sopra l'Europa oppure sulle Americhe o sull'Oceano Atlantico tra le due. Questo fa sì che queste particolari posizioni siano particolarmente affollate e c'è da dire anche un'altra cosa che in realtà a dispetto del nome geostazionaria questi satelliti non sono per nulla stazionari, anzi lo sarebbero se la Terra rispettasse le astrazioni della fisica newtoniana, dunque se fosse una sfera perfetta, ma non è una sfera perfetta, anzi ha una forma piuttosto di pera con un Equatore che non è una circonferenza perfetta, bensì un'ellisse molto schiacciata e anche la distribuzione di massa è lungi dall'estero omogenea, al contrario abbiamo crossa terrestre, abbiamo degli oceani. Ecco, tutto questo aggiunto al fatto che nello spazio c'è un vento detto solare fa sì che questi oggetti, questi satelliti siano in continuo movimento e debbano lottare contro tutte queste perturbazioni accendendo i loro motori continuamente, dunque consumando il combustibile di bordo. Questo è un elemento essenziale perché questo combustibile non è infinito e una volta terminato cosa succede? Succede che questi satelliti restano in balia di queste forze, di questi eventi e dunque come dei relitti se non vengono tolti da quest'orbita e spesso non vengono tolti, restano e dunque possono andare a sbattere contro, per così dire, altri satelliti e creare delle collisioni. Avete capito che questo è uno dei rischi più importanti e se è vero a 36.000 km di quota è ancora più importante, stiamo scendendo rapidamente a circa 800 km di quota, siamo nella regione qui in assoluto la più popolata. in questa regione abbiamo i satelliti per osservazione della Terra, sono dei satelliti a volte anche per lo spionaggio militare, ce ne sono all'incirca 800 che però condividono questa regione con circa, udite udite, 155 milioni di piccoli frammenti di dimensioni che vanno da un millimetro a un centimetro, dunque praticamente invisibili non solo all'occhio nudo dei telescopi ma anche ai radar pressoché. Questi oggetti sono microscopici, dunque voi direte che problema c'è. Il problema è che viaggiano a una velocità di circa 7 km ogni secondo, dunque sono dei proiettili carichi di energia cinetica che nel momento quando entrano in collisione con un altro satellite ovviamente provocano delle esplosioni e non uso il termine esplosione come una bomba in modo casuale ma in realtà è quello che è successo molto spesso, per esempio negli anni 70 le due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica hanno effettuato delle dimostrazioni di forza, hanno dimostrato di essere in grado di colpire dei satelliti lanciando dei missili da terra o da aria o da degli incrociatori. Questi eventi hanno ovviamente causato molto caos nello spazio, hanno causato molti detriti e questa volta non naturalmente prodotti dalla disgregazione causata dalle radiazioni oppure dai cicli termici ai quali il satellite è soggetto bensì sono stati veramente voluti dall'uomo, dunque causati da esplosioni e fino al momento in cui queste cose sono avvenute ad altezze relativamente basse, il problema è stato risolto da madre natura diciamo che attraverso la trazione gravitazionale ha fatto rientrare questi piccoli frammenti in tempi molto rapidi. Non è stata questa invece la situazione che si è generata il 7 gennaio dell'anno 2011 quando la stessa dimostrazione di potenza l'ha voluta effettuare anche la nuova superpotenza arrivata, la Cina. In questo caso la Cina ha dimostrato di essere capace di colpire un suo vecchio satellite a una quota di ben 800 km, dunque proprio nella regione che abbiamo visto prima la più densamente popolata e gli effetti di questa esplosione sono ancora visibili oggi e lo saranno ancora per migliaia di anni perché questi detriti resteranno e restano, come adesso vedremo nel prossimo filmato che sta per partire, come una nuvola, una nuvola che continua a viaggiare espandendosi, cambiando forma e diventa sempre più difficile anche da prevedere la posizione. Questo fenomeno ha già mietuto con qualche vittima, in particolare un satellite russo qualche anno fa è stato letteralmente tagliato in due dal passaggio attraverso questa nuvola. Questi eventi hanno in effetti dimostrato che il re è nudo, che in realtà tutti questi trattati internazionali che vietano il dispiegamento di armi di distruzione di massa intorno al nostro pianeta, in realtà tutti questi trattati valgono molto poco, in quanto spesso si urtano alla volontà delle superpotenze o anche degli attori commerciali certe volte di continuare a esercitare il loro potere. Tant'è vero che per esempio non riescono a impedire l'attraversamento dello spazio da parte dei missili balistici intercontinentali e tantomeno dei missili antimissili. Tutto questo perché queste armi non entrano in orbita intorno alla Terra, dunque non ricadono nel mandato dei trattati internazionali di cui sopra. E queste armi o guerre stellari non sono affatto uniche nel loro genere, anzi ultimamente sono state anche sperimentate dei laser molto potenti che riescono ad accecare le ottiche estremamente delicate di questi satelliti. Sono stati anche testati dei satelliti con tecnologia stealth, ovvero sia che li rendano praticamente invisibili ai radar da Terra e capaci dunque di avvicinarsi ad altri satelliti per ad esempio ascoltarne le telecomunicazioni o interferire o addirittura manometterli meccanicamente, sempre se il satellite obiettivo, non ha a sua volta dispiegato intorno a sé dei microsatelliti, detti angeli custodi, che assicurano una sorta di sorveglianza di prossimità, impedendo dunque altre manomissioni. Avete capito che tutto questo sta causando un'impennata vertiginosa del numero di debris, dunque di frammenti che adesso popolano la nostra atmosfera, tutto questo è chiaro che le nostre agenzie devono prendere atto di questi fenomeni e stanno portando, stanno sviluppando nuovi sistemi per pulire l'orbita. Dunque si parla ad esempio di rimorchiatori capaci di agganciarsi a altri satelliti per imprimere una splinta per farli rientrare nella Terra, verso la Terra, dove bruceranno negli strati alti dell'atmosfera. In ogni caso quello che conta è ricordarsi in questo momento che noi stiamo vivendo una nuova corsa allo spazio, una nuova corsa allo spazio che non è di tipo, solamente di tipo strategico-militare, ma è anche e soprattutto una competizione a capitalizzare al meglio gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo spaziale, al fine di generare crescita economica, di generare impiego, occupazione, innovazione, trasformare questi investimenti in una nuova generazione di imprenditori. Ma tutti i satelliti di cui abbiamo parlato oggi in realtà sono essenziali per le attività economiche della nostra vita quotidiana e ci aiutano nelle trasmissioni, ci aiutano nelle telecomunicazioni, ci aiutano a gestire crisi, sicurezza. Stiamo in qualche modo espandendo la sfera delle attività economiche e sociali terrestri fino ai confini del sistema solare. Ma se vogliamo mantenere questa crescita e far sì che questa crescita sia sostenibile nel termine, dobbiamo affrontare il caos che è generato da questa crescita e che abbiamo visto oggi in queste immagini. e per farlo dobbiamo prenderne coscienza rapidamente e anche agire al fine, in qualche modo, di evitare che questo caos divori questa preziosa, essenziale risorsa naturale che è lo spazio intorno al nostro pianeta. Grazie. Grazie.